Sura terza. Alif la'am mim. Allah. Non c'è Dio l'infuori di lui, il vivente, l'assoluto. Ha fatto scendere su di te il libro con la verità, a conferma di ciò che era prima di esso. E fece scendere la Torah e l'Injil in precedenza, come guida per le genti. E ha fatto scendere il discrimine. In verità, a coloro che negano i segni di Allah, un duro castigo. Allah è potente e vendicatore. Nulla di quel che è sulla terra o nei cieli è nascosto ad Allah. È lui che vi plasma come vuole negli uteri. Non c'è Dio l'infuori di lui, l'eccelso, il saggio. È lui che ha fatto scendere il libro su di te. Esso contiene versetti espliciti che sono la madre del libro, e altri che si prestano ad interpretazioni diverse. Coloro che hanno una malattia nel cuore, che cercano la discordia e la scorretta interpretazione, seguono quello che è allegorico, mentre solo Allah ne conosce il significato. Coloro che sono radicati nella scienza dicono, noi crediamo, tutto viene dal nostro Signore. Ma i soli a ricordarsene sempre, sono i dotati di intelletto. Signore nostro, non lasciare che i nostri cuori si perdano dopo che li hai guidati, e concedici misericordia da parte tua. Signore nostro, in verità sei tu che radunerai gli uomini in un giorno a proposito del quale non ve dubbio alcuno. Allah certamente non manca alla sua promessa. No, per quelli che sono miscredenti, non basteranno i loro beni e i loro figli per metterli al riparo da Allah. Saranno combustibile del fuoco. Come la gente di Faraone, e quelli che vissero prima di loro. Avevano tacciato di menzogno i nostri segni. Allah li ha colti nel peccato. Allah è severo nel punire. Dì ai miscredenti, presto sarete sconfitti, sarete radunati nell'inferno, che infame giaciglio. Vi fu certamente un segno nelle due schiere che si fronteggiavano. Una combatteva sul sentiero di Allah, e l'altra era miscredente. Li videro a colpo d'occhio due volte più numerosi di quello che erano. Ebbene, Allah presta il suo aiuto a chi vuole. Ecco un argomento di riflessione per coloro che hanno intelletto. Abbiamo abbellito, agli occhi degli uomini, le cose che essi desiderano. Le donne, i figli, i tesori accumulati d'oro e d'argento, i cavalli marchiati, il bestiame e i campi coltivati. Tutto ciò è solo godimento temporaneo della vita terrena, mentre verso Allah è il miglior ritorno. Dì, posso insegnarvi qualcosa al meglio di ciò? Per quelli che sono timorati ci sono, presso il Signore, giardini nei quali scorrono ruscelli, ed essi vi resteranno in eterno e spose purissime e il compiacimento di Allah. Allah osserva i suoi servi, che dicono O Signor nostro, abbiamo creduto, perdoni i nostri peccati e proteggici dal castigo del fuoco. Questi i pazienti, i veritieri, gli uomini i pii, i generosi, quelli che implorano perdono nelle ultime ore della notte. Allah testimonia, e con lui gli angeli sapienti, che non c'è Dio all'infuori di lui, colui che realizza la giustizia. Non c'è Dio all'infuori di lui, l'eccelso, il saggio. In vero, la religione presso Allah è l'Islam. Quelli che ricevettero la scrittura caddero nella discordia, nemici gli uni degli altri, solo dopo aver avuto la scienza. Ma chi rifiuta i segni di Allah, sappia che Allah è rapido al conto. Se polemizzano contro di te, di Sottometto ad Allah il mio volto, io e coloro che mi hanno seguito. E di a coloro che hanno ricevuto il libro e agli illetterati Vi siete sottomessi? Se si sottomettono, saranno ben guidati. Se ti volgono le spalle, il tuo compito è solo il trasmettere. Allah osserva i suoi schiavi. Annuncia un castigo doloroso a quelli che smentiscono i segni di Allah. Ingiustamente uccidono i profeti e uccidono coloro che invitano alla giustizia. Coloro le cui opere sono diventate inutili in questo mondo e nell'altro. Non avranno chi li soccorra. Non hai visto coloro ai quali era stata data una parte della scrittura? Quando sono invitati al libro di Allah perché sia giudice tra loro, una parte di loro volge le spalle nel rifiuto assoluto. E ciò perché dicono, il fuoco non ci toccherà se non per giorni contati. Le loro stesse calunnie le hanno ingannati sulla loro religione. Che accadrà quando li avremo riuniti, in un giorno sul quale non c'è dubbio alcuno e ogni anima riceverà quello che si sarà guadagnata e non verrà fatto a loro alcun torto? Dì, oh Allah, sovrano del regno, tu dai il regno a chi vuoi e lo strappi a chi vuoi, esalti chi vuoi e umili chi vuoi. Il bene nelle tue mani, tu sei l'Onnipotente. Tu fai che la notte si insinui nel giorno e il giorno nella notte, dal morto tra il vivo e dal vivo il morto, e concedi a chi vuoi senza contare. I credenti non si alleino con i miscredenti, preferendoli ai fedeli. Chi fa ciò contraddice la religione di Allah, a meno che temiate qualche male da parte loro. Allah vi mette in guardia nei suoi stessi confronti. Il divenire è verso Allah. Dì, sia che nascondiate quello che avete nei cuori, sia che lo manifestiate, Allah lo conosce. Egli conosce tutto quello che è nei cieli e sulla terra. Allah è Onnipotente. Il giorno in cui ogni uomo avrà dinanzi ciò che avrà fatto di bene e ciò che avrà commesso di male e si augurerà che tra lui e tutto questo ci sia un tempo immenso, Allah vi mette in guardia da se stesso. Allah è indulgente con i servi. Dì, se avete sempre amato Allah, seguitemi. Allah vi amerà e perdonerà i vostri peccati. Allah è perdonatore misericordioso. Dì, obbedite ad Allah e al messaggero, ma se volgerete le spalle, ecco, Allah non ama i miscredenti. In verità, Allah ha eletto Adamo e Noè e la famiglia di Abramo e la famiglia di Imran al di sopra del resto del creato. In quanto discendenti gli uni degli altri. Allah è odiente, sapiente. Quando la moglie di Imran disse Mio signore, ho consacrato a te e solo a te quello che è nel mio ventre. Accettalo da parte mia. In verità, tu sei colui che tutto ascolta e conosce. Poi, dopo aver partorito, disse Mio signore, ecco che ho partorito una femmina. Ma Allah sapeva meglio di lei quello che aveva partorito. Il maschio non è certo simile alla femmina. L'ho chiamata Maria e pongo lei e la sua discendenza sotto la tua protezione contro Satana e il lapidato. L'accolse il suo signore di accoglienza bella e la fece crescere della miglior crescita. La fidò a Zaccaria e ogni volta che gli entrava nel santuario trovava cibo presso di lei. Disse O Maria, da dove proviene questo? Disse Da parte di Allah In verità Allah dà chi vuole senza contare. Zaccaria allora si rivolse al suo signore e disse O signor mio concedimi da parte tua una buona discendenza In verità tu sei colui che ascolta l'invocazione. Gli angeli lo chiamarono mentre stava ritto in preghiera nel santuario. Allah ti annuncia Giovanni che confermerà una parola di Allah Sarà un nobile un casto un profeta uno dei devoti. Disse O mio signore Come mai potrò avere un figlio? Già ho raggiunto la vecchiaia e mia moglie è sterile. Disse Così Allah fa quel che vuole. Signore disse Zaccaria dammi un segno. Il tuo segno disse il signore sarà che per tre giorni potrai parlare alla gente solo a segni. Ma ricorda molto il tuo signore e glorificalo al mattino e alla sera. E quando gli angeli dissero In verità O Maria Allah ti ha eletta e ha purificato ed eletta tra tutte le donne del mondo. O Maria sii devota al tuo signore prosternati e inchinati con coloro che si inchinano. Ti riveliamo cose del mondo invisibile perché tu non eri con loro quando gettarono i loro calami per stabilire chi dovesse avere la custodia di Maria e non eri presente quando disputavano tra loro. Quando gli angeli dissero O Maria Allah ti annuncia la lieta novella di una parola da lui proveniente. Il suo nome è il Messia Gesù figlio di Maria eminente in questo mondo e nell'altro uno dei più vicini. Dalla culla parlerà le genti e nella sua età adulta sarà tra gli uomini devoti. Ella disse come potrei avere un bambino se mai un uomo mi ha toccata. Disse è così che Allah crea ciò che vuole. Quando decide una cosa dice solo sì ed essa è e Allah insegnerà il libro e la saggezza la Torah e l'Injil e ne farà un messaggero per i figli di Israele che dirà loro in verità vi recco un segno da parte del vostro Signore plasmo per voi un simulacro di uccello nella creta e poi vi soffio sopra e con il permesso di Allah diventa un uccello e per volontà di Allah guarisco il cieco nato e il lebroso e il ressuscito e il morto e vi informo di quel che mangiate e di quel che accumulate nelle vostre case certamente in ciò vi è un segno se siete credenti sono stato mandato a confermarvi la Torah che mi ha preceduto e a rendervi lecito qualcosa che vi era stata vietata sono venuto a voi con un segno da parte del vostro Signore temete dunque Allah e obbeditemi in verità Allah è il mio e vostro Signore adoratelo dunque ecco la retta via quando poi Gesù avvertì la miscredenza e loro disse chi sono i miei ausiliari sulla via di Allah noi dissero gli apostoli siamo gli ausiliari di Allah noi crediamo in Allah si testimone della nostra sottomissione Signore abbiamo creduto in quello che hai fatto scendere e abbiamo seguito il messaggero annoveraci tra coloro che testimoniano te sono strategie e anche Allah ne tesse Allah è il migliore degli strateghi e quando Allah disse oh Gesù ti porrò un termine e ti eleverò a me e ti purificherò dai miscredenti porrò quelli che ti seguono al di sopra degli infedeli fino al giorno della risurrezione ritornerete tutti verso di me e io giudicherò le vostre discordie e castigherò di duro castigo quelli che sono stati miscredenti in questa vita e nell'altra e non avranno chi li soccorrerà quelli che invece hanno creduto e operato il bene saranno ripagati in pieno Allah non ama i prevaricatori ecco quello che ti recitiamo dei segni e del saggio ricordo in verità per Allah Gesù è simile ad Adamo che egli creò dalla polvere poi disse sì ed egli fu questa è la verità che proviene dal tuo Signore non essere tra i dubbiosi a chi polemizza con te ora che hai ricevuto la scienza di solo venite chiamiamo i nostri figli e i vostri le nostre donne e le vostre noi stessi e voi stessi e invochiamo la maledizione di Allah sui bugiardi ecco il racconto veridico non c'è altro Dio che Allah e in verità Allah lui è l'eccelso il saggio se dunque volgono le spalle in vero Allah ben conosce i seminatori di discordia di o gente della scrittura addivenite ad una dichiarazione comune tra noi e voi e cioè che non adoreremo altri che Allah senza nulla associarli e che non prenderemo alcuni di noi come signori all'infuori di Allah se poi volgono le spalle allora dite testimoniate che noi siamo musulmani o gente della scrittura perché polemizzate a proposito di Abramo mentre la Torah e il Vangelo sono scesi dopo di lui non capite dunque ecco già polemizzate su ciò che conoscete perché dunque intendete polemizzare su ciò di cui non avete conoscenza alcuna Allah sa e voi non sapete Abramo non era né giudeo né nazareno ma puro credente e musulmano e non era uno degli associatori i più vicini ad Abramo sono quelli che lo hanno seguito così come hanno seguito questo profeta e quelli che hanno creduto Allah è il patrono dei credenti una parte della gente della scrittura avrebbe voluto potendo farvi perdere ma furono loro a perdersi e non ne sono coscienti o gente della scrittura perché smentiti i segni di Allah mentre ne siete testimoni o gente della scrittura perché avvolgete di falso il vero e lo nascondete mentre ben lo conoscete una parte della gente della scrittura dice così all'inizio del giorno credete in quello che è stato fatto scendere su coloro che credono e alla fine del giorno rinnegatelo forse si ricrederanno credete solo a quelli che seguono la vostra religione di in verità la guida è quella di Allah e gli può dare a chi vuole quello che ha dato a voi e coloro che da lui ricevono dovrebbero forse polemizzare con voi davanti al vostro signore di in verità la grazia è nelle mani di Allah che la dà a chi vuole Allah è immenso sapiente riserva la sua misericordia a chi vuole lui Allah possiede la grazia più grande tra le genti della scrittura ci sono alcuni che se affidi loro un kintar te lo rendono e altri che se affidi loro un denaro non te lo rendono finché tu non stia loro addosso per riaverlo e ciò perché dicono non abbiamo obblighi verso i gentili e consapevolmente dicono menzogne contro Allah chi invece fedele ai suoi impegni agisce con pietà ebbene Allah ama i piedi in verità coloro che svendono a vil prezzo il patto con Allah ai loro giuramenti non avranno parte alcuna nell'altra vita Allah non non parlerà loro né li guarderà nel giorno della risurrezione non li purificherà e avranno doloroso castigo ci sono alcuni di loro che distorcono la scrittura con la lingua per farvi credere che ciò è parte della scrittura mentre le è estraneo dicono proviene da Allah mentre invece non proviene da Allah e consapevolmente dicono menzogne contro Allah non si addice ad un uomo al quale Allah ha dato la scrittura e la saggezza e la dignità di profeta dire alle genti adorate me all'infuori di Allah ma piuttosto siate veri devoti del Signore voi che insegnate il libro e lo avete studiato e non vi ordinerà di prendere per signori angeli e profeti vi ordinerebbe la miscredenza mentre siete musulmani e quando Allah accettò il patto dei profeti ogni volta che vi darò una parte della scrittura e della saggezza e che vi invierò un messaggero per confermarvi quello che avete già ricevuto dovrete credergli e aiutarlo disse accettate queste mie condizioni accettiamo dissero siate testimoni e io sarò con voi testimone quanto poi a chi volgerà le spalle questi saranno i perversi desiderano altro che la religione di Allah quando per amore o per forza tutto ciò che è nei cieli e sulla terra si sottomette a lui e verso di lui tutti gli esseri saranno ricondotti di crediamo in Allah e in quello che ha fatto scendere su di noi e in quello che ha fatto scendere su Abramo Ismaele Isacco Giacobbe e le tribù e in ciò che da parte del Signore è stato dato a Mosè a Gesù e ai profeti non facciamo alcuna differenza tra loro e a lui siamo sottomessi chi vuole una religione diversa dall'Islam il suo culto non sarà accettato e nell'altra vita sarà tra i perdenti potrebbe mai Allah guidare sulla retta via genti che rinnegano dopo aver creduto e testimoniato che il messaggero è veridico e dopo averne avute le prove Allah non guida coloro che prevaricano loro ricompensa sarà la maledizione di Allah degli angeli e di tutti gli uomini rimarranno in essa in perpetuo il castigo non sarà loro alleviato e non avranno alcuna dilazione eccetto coloro che poi si pentiranno e si emenderanno poiché Allah è perdonatore misericordioso in verità di quelli che rinnegano dopo aver creduto e aumentano la loro miscredenza non sarà accettato il pentimento essi sono coloro che si sono persi quanto i miscredenti che muoiono nella miscredenza quando anche offrissero come riscatto tutto l'oro della terra non sarà accettato avranno un castigo doloroso e nessuno li soccorrerà non avrete la vera pietà finché non sarete generosi con ciò che più amate tutto quello che donate Allah lo conosce ogni cibo era permesso ai figli di Israele eccetto quello che Israele stesso si era vietato prima che fosse stata fatta scendere la Torah di portate dunque la Torah e recitatela se siete veridici coloro che dopo tutto ciò costruiscono menzogne contro Allah questi sono i prevaricatori di Allah ha detto la verità dunque seguite la religione di Abramo con sincerità egli non era politeista la prima casa che è stata eretta per gli uomini è certamente quella di Bacca benedetta guida del creato in essa vi sono i segni evidenti come il luogo in cui ristette Abramo chi vi entra è il sicuro spetta gli uomini che ne hanno la possibilità di andare per Allah in pellegrinaggio alla casa quanto a colui che lo nega sappia che Allah fa a meno delle creature di o gente della scrittura perché negate i segni di Allah quando Allah è testimone di quello che fate di o gente della scrittura perché spingete quelli che hanno creduto lontano dal sentiero di Allah e volete renderlo difficoltoso mentre siete testimoni Allah non è incurante di quello che fate o voi che credete se obbedirete ad alcuni di coloro che hanno ricevuto la scrittura vi riporteranno alla miscredenza dopo che avevate creduto e come potreste essere miscredenti mentre vi si recitano i segni di Allah e c'è tra voi il suo messaggero chi si aggrappa ad Allah è guidato sulla retta via o voi che credete temete Allah come deve essere temuto e non morite non musulmani aggrappatevi tutti insieme alla corda di Allah e non dividetevi tra voi e ricordate la grazia che Allah vi ha concesso quando eravate nemici è lui che ha riconciliato i vostri cuori e per grazia sua siete diventati fratelli e quando eravate sul ciglio di un abisso di fuoco è lui che vi ha salvati così allavi manifesti i segni suoi affinché possiate guidarvi sorga tra voi una comunità che inviti al bene raccomandi le buone consuetudini e proibisca ciò che è riprovevole ecco coloro che prospereranno e non siate come coloro che si sono divisi opposti gli uni agli altri dopo che ricevettero le prove per loro c'è castigo immenso il giorno in cui alcuni volti si illumineranno e altri si anneriranno a quelli che avranno i volti anneriti sarà detto avete rinnegato dopo aver creduto gustate il castigo della miscredenza e coloro i cui visi si illumineranno saranno nella misericordia di Allah e vi rimarranno in perpetuo questi sono i segni di Allah che ti recitiamo sinceramente Allah non vuole l'ingiustizia per il creato ad Allah appartiene tutto quello che è nei cieli e sulla terra ed è ad Allah che tutto sarà ricondotto voi siete la migliore comunità che sia stata suscitata tra gli uomini raccomandate le buone consuetudini e proibite ciò che è riprovevole e credete in Allah se la gente della scrittura credesse sarebbe meglio per loro ce n'è qualcuno che è credente ma la maggior parte di loro sono empi non potranno recarvi male se non debolmente e se vi combatteranno volteranno ben presto le spalle e non saranno soccorsi saranno avviliti ovunque si trovino grazie ad una corda di Allah o ad una corda d'uomini hanno meritato la collera di Allah ed eccoli colpiti dalla povertà per aver smentito i segni di Allah per aver ucciso ingiustamente i profeti per aver disobbedito e trasgredito non sono tutti uguali tra la gente della scrittura c'è una comunità che recita i segni di Allah durante la notte e si prosterna credono in Allah nell'ultimo giorno raccomandano le buone consuetudini e proibiscono ciò che è riprovevole e gareggiano in opere di bene questi sono i devoti tutto il bene che fanno non sarà loro disconosciuto poiché Allah riconosce perfettamente i timorati e quelli che sono miscredenti i loro beni e i loro figli non li metteranno affatto al riparo d'Allà sono i compagni del fuoco e vi rimarranno in perpetuo e ciò che spendono in questa vita sarà come un vento glaciale che impazza sul campo di quelli che sono stati ingiusti con loro stessi e lo devasta non è Allah ad essere ingiusto con loro ma sono essi ad esserlo con loro stessi o voi che credete non sceglietevi confidenti al di fuori dei vostri farebbero di tutto per farvi perdere desidererebbero la vostra rovina l'odio esce dalle loro bocche ma quel che i loro petti celano è ancora peggio ecco che vi manifestiamo i segni se potete comprenderli voi li amate mentre loro non vi amano affatto mentre voi credete a tutta la scrittura loro quando vi incontrano dicono crediamo ma quando sono soli si mordono le dita rabbiosi contro di voi di morite nella vostra rabbia in verità Allah conosce bene quello che c'è lato nei cuori se vi giunge un bene se ne affliggono se un male vi colpisce gioiscono se però sarete pazienti e devoti i loro intrighi non vi procureranno alcun male Allah abbraccia tutto quello che fanno e quando un mattino lasciasti la tua famiglia per schierare i credenti ai posti di combattimento Allah è colui che tutto ascolta e conosce quando due vostri clan stavano per ritirarsi nonostante che Allah sia il loro patrono i credenti ripongono fede nell'Allah Allah già vi soccorse a Badr mentre eravate deboli temete Allah forse sarete riconoscenti quando dicevi ai credenti non vi basta che il vostro signore faccia scendere in vostro aiuto 3000 angeli anzi se sarete pazienti e pi quando i nemici verranno contro di voi il vostro signore vi manderà l'ausilio di 5000 angeli guerrieri e Allah non ne fece altro che un annuncio di gioia per voi affinché i vostri cuori si rassicurassero poiché la vittoria non viene che da Allah l'eccelso il saggio per fare a pezzi una parte di quelli che furono miscredenti per umiliarli per farli ritornare sconfitti tu non hai nessuna parte in ciò sia che Allah accetti il loro pentimento sia che li castiga che certamente sono degli iniqui ad Allah appartiene tutto quello che è nei cieli e sulla terra egli perdona chi vuole e castiga chi vuole Allah è perdonatore misericordioso o voi che credete non cibatevi dell'usura che aumenta di doppio in doppio e temete Allah affinché possiate prosperare e temete il fuoco che è stato preparato per i miscredenti e obbedite ad Allah e al messaggero che possiate ricevere misericordia affrettatevi al perdono del vostro signore e al giardino vasto come i cieli e la terra che è preparato per i timorati quelli che donano nella buona e nella cattiva sorte per quelli che controllano la loro collera e perdonano gli altri poiché Allah ama chi opera il bene e quelli che quando hanno commesso qualche misfatto sono stati ingiusti nei confronti di loro stessi si ricordano di Allah e gli chiedono perdono dei loro peccati e chi può perdonare i peccati se non Allah e non si ostinano nel male consapevolmente essi avranno in compenso il perdono del loro signore e i giardini in cui scorrono i ruscelli e vi rimarranno in perpetuo che bella ricompensa per coloro che ben agiscono certamente prima di voi avvennero molte cose percorrete la terra e vedrete che fine hanno fatto coloro che tacciavano di menzogna gli inviati questo è un proclama per gli uomini una guida e un'esortazione per i timorati non perdetevi d'animo non vi affliggete se siete credenti avrete il sopravvento se subite una ferita simile ferita è toccata anche agli altri così alterniamo questi giorni per gli uomini sicché Allah riconosca quelli che hanno creduto e che scelga testimoni tra voi Allah non ama gli empi e Allah purifichi i credenti e a nienti i negatori pensate forse di entrare nel giardino senza che Allah riconosca coloro che lottano coloro che sopportano vi augurate la morte prima ancora di incontrarla o l'avete vista con i vostri occhi Muhammad non è altro che un messaggero altri ne vennero prima di lui se morisse o se fosse ucciso ritornereste sui vostri passi chi ritornerà sui suoi passi non danneggerà Allah in nulla e ben presto Allah compenserà i riconoscenti nessuno muore se non con il permesso di Allah in un termine scritto e stabilito a chi vuole compensi terreni gli saranno accordati a chi vuole compensi nell'altra vita glieli daremo ben presto ricompenseremo i riconoscenti quanti profeti combatterono affiancati da numerosi discepoli senza perdersi d'animo per ciò che li colpiva sul sentiero di Allah senza infiacchirsi e senza cedere Allah ama i perseveranti solo dissero Signore perdona i nostri errori e gli eccessi che abbiamo commesso rinsalda le nostre gambe e dacci la vittoria sugli infedeli e Allah chiede loro ricompensa in questa vita e migliore ricompensa nell'altra Allah ama coloro che fanno il bene o voi che credete se obbedite miscredenti vi faranno tornare sui vostri passi e sarete sconfitti sì Allah è il vostro patrono il migliore dei soccorritori ben presto getteremo lo sgomento nei cuori dei miscredenti perché hanno associato ad Allah esseri e quali egli non ha dato autorità alcuna il fuoco sarà il loro rifugio sarà atroce l'asilo degli empi Allah ha mantenuto la promessa che vi aveva fatto quando per volontà sua li avete annientati e ciò fino al momento in cui vi siete persi d'animo e avete discusso gli ordini disobbediste quando intravedeste quello che desideravate tra di voi ci sono alcuni che desiderano i beni di questo mondo e ce ne sono altri che bramano quelli dell'altro Allah vi ha fatto fuggire davanti a loro per mettervi alla prova e poi certamente vi ha perdonati Allah possiede la grazia più grande per i credenti quando risalivate senza badare a nessuno mentre alle vostre spalle il messaggero vi richiamava allora Allah vi ha compensato di un'angoscia con un'altra angoscia affinché non vi affleggeste per quello che vi era sfuggito e per quello che vi era capitato Allah è ben informato di quello che fate dopo la tristezza fece scendere su di voi un senso di sicurezza e un sopore che avvolse una parte di voi mentre altri piangevano su se stessi e concepirono su Allah pensieri dell'età dell'ignoranza non conformi al vero dicevano cosa abbiamo guadagnato in questa impresa di loro tutta l'impresa appartiene da Allah quello che non palesano lo nascondono in sé se avessimo avuto una qualche parte in questa storia non saremmo stati uccisi in questo luogo di anche se foste stati nelle vostre case la morte sarebbe andata a cercare nei loro letti quelli che erano predestinati tutto è accaduto perché Allah provi quello che celate in seno e purifichi quello che avete nei cuori Allah conosce quello che celano i cuori quanto a quelli di voi che volsero le spalle il giorno in cui le due schiere si incontrarono fu satana a sedurli a farli inciampare per una qualche colpa che avevano commesso ma Allah ha perdonato loro poiché Allah è perdonatore indulgente o voi che credete non siate come miscredenti che mentre i loro fratelli viaggiavano sulla terra o guerreggiavano dissero se fossero rimasti con noi non sarebbero morti non sarebbero stati uccisi Allah ne voleva fare un motivo di rimpianto nei loro cuori è Allah che dà la vita e la morte Allah osserva quello che fate e se sarete uccisi sul sentiero di Allah o perirete il perdono e la misericordia di Allah valgono di più di quello che accumulano che moriate o che siate uccisi in vero è verso Allah che sarete ricondotti è per misericordia di Allah che sei dolce nei loro confronti se fossi stato duro di cuore si sarebbero allontanati da te perdona loro e supplica che siano assolti consultati con loro sugli ordini da impartire poi quando hai deciso abbi fiducia in Allah Allah ama coloro che confidano in lui se Allah vi sostiene nessuno vi può sconfiggere se vi abbandona chi vi potrà aiutare confidino in Allah i credenti l'inganno non s'addice a un profeta chi inganna porterà secco il suo inganno nel giorno della resurrezione e ogni anima sarà ripagata per quello che avrà meritato nessuno sarà frodato e chi persegue il compiacimento di Allah sarà come colui che ha meritato la sua collera per costui l'inferno che è in fausto rifugio vi sono gradi distinti presso Allah Allah vede perfettamente quello che fanno Allah ha colmato di grazie credenti quando ha suscitato tra loro un messaggero che recita i suoi versetti li purifica e insegna loro il libro e la saggezza mentre in precedenza erano in preda all'errore evidente quando vi giunge un dispiacere e già ne avevate inflitto uno doppio direte come è successo di viene da voi stessi in verità Allah è onnipotente quello che vi toccò il giorno in cui le due schiere si incontrarono avvenne con il permesso di Allah affinché riconoscesse i credenti e riconoscesse gli ipocriti quando fu detto loro venite a combattere sul sentiero di Allah o almeno difendetevi dissero vi seguiremmo certamente se sapessimo combattere in quel giorno erano più vicini alla miscredenza che alla fede le loro bocche non dicevano quello che celavano nel cuore ma Allah conosce bene quello che nascondevano seduti tranquillamente dissero i loro fratelli se ci avessero obbedito non sarebbero rimasti uccisi di loro allontanate la morte da voi se siete sinceri non considerare morti quelli che sono stati uccisi sul sentiero di Allah sono vivi invece e ben provvisti dal loro signore lieti di quello che Allah per sua grazia concede e a quelli che sono rimasti dietro loro danno la lieta novella nessun timore non ci sarà afflizione annunciano la novella del beneficio di Allah e della grazia e che Allah non lascia andare perduto il compenso dei credenti coloro che pur feriti risposero all'appello di Allah e del messaggero quelli di loro che ben agivano e temevano Allah avranno un compenso immenso dicevano loro si sono riuniti contro di voi temeteli ma questo accrebbe la loro fede e dissero Allah ci basterà è il migliore dei protettori ritornarono con la grazia e il favore di Allah non li colse nessun male e perseguirono il suo compiacimento Allah possiede grazia immensa certo è Satana che cerca di spaventarvi con i suoi alleati non abbiate paura di loro ma temete me se siete credenti non essere afflitto per quelli che accorrono alla miscredenza in verità non potranno nuocere ad Allah in nulla Allah non darà loro parte alcuna nell'altra vita e avranno castigo immenso in vero coloro che hanno barattato la fede con la miscredenza non potranno nuocere ad Allah in nulla e avranno doloroso castigo i miscredenti non credano che la dilazione che accordiamo loro sia un bene per essi se gliela accordiamo è solo perché aumentino i loro peccati avranno un castigo avvilente non si addice ad Allah lasciare i credenti nello stato in cui vi trovate se non fino a distinguere il cattivo dal buono Allah non intende informarvi sull'invisibile Allah sceglie chi vuole tra i suoi messaggeri credete in Allah e nei suoi messaggeri se crederete e vi comporterete da timorati avrete una ricompensa immensa coloro che sono avari di quello che Allah ha concesso loro della sua grazia non credano che ciò sia un bene per loro al contrario è un male presto nel giorno del giudizio porteranno appeso al collo ciò di cui furono avari ad Allah l'eredità dei cieli e della terra e Allah è ben informato di quello che fate Allah ha certamente udito le parole di quelli che hanno detto Allah è povero e noi siamo ricchi metteremo per iscritto le loro parole e il fatto che ingiustamente uccisero i profeti e diremo loro gustate il tormento dell'incendio e ciò per via di quello che le vostre mani avranno commesso che Allah non è ingiusto con i suoi servi sono quegli stessi che hanno detto veramente Allah ha stabilito che non credessimo in nessun messaggero finché non ci porti un'offerta che il fuoco consumi di i messaggeri che vennero prima di me recarono prove evidenti e anche la prova che dite perché li avete uccisi se siete sinceri se ti trattano da bugiardo sappi che trattarono da bugiardi profeti che vennero prima di te che avevano portato prove chiarissime il salterio e il libro che illumina ogni anima gusterà la morte ma riceverete le vostre mercedi solo nel giorno della resurrezione chi sarà allontanato dal fuoco e introdotto nel paradiso sarà certamente uno dei beati poiché la vita terrena non è che incannevole godimento sarete certamente messi alla prova nei vostri beni e nelle vostre persone e subirete molte ingiurie da quelli che hanno ricevuto la scrittura prima di voi e dagli associatori siate perseveranti e devoti ecco il migliore atteggiamento da assumere quando Allah accettò il patto di quelli cui era stata data la scrittura disse loro lo esporrete alle genti senza nascondere nulla invece se lo gettarono dietro le spalle e lo vendettero per un vile prezzo che cattivo affare hanno fatto non pensare che coloro che si rallegrano di quello che hanno fatto e che amano essere elogiati per ciò che non hanno fatto non pensare che trovino una scappatoia al castigo avranno un doloroso castigo appartiene ad Allah il regno dei cieli della terra Allah è onnipotente in verità nella creazione dei cieli della terra e nell'alternarsi della notte e del giorno ci sono certamente segni per coloro che hanno intelletto che in piedi seduti o coricati su un fianco ricordano Allah e meditano sulla creazione dei cieli della terra dicendo signore non hai creato tutto questo in vano gloria a te preservaci dal castigo del fuoco o signore colui che fai entrare nel fuoco lo copri di ignominia e gli empi non avranno chi li soccorra signore abbiamo inteso un nunzio che invitava alla fede dicendo credete nel vostro signore abbiamo creduto signore perdone i nostri peccati cancella le nostre colpe e facci morire con i probi signore dacci quello che ci hai promesso attraverso i tuoi messaggeri e non coprirci di ignominia nel giorno della risurrezione in verità tu non manchi alla promessa il loro signore risponde all'invocazione in verità non farò andare perduto nulla di quello che fate uomini o donne che siate che gli uni vengono dagli altri a coloro che sono emigrati che sono stati scacciati dalle loro case che sono stati perseguitati per la mia causa che hanno combattuto che sono stati uccisi perdonerò le loro colpe e li farò entrare nei giardini dove scorrono i ruscelli ricompensa questa da parte di Allah presso Allah c'è la migliore delle ricompense non ti inganni la facilità con cui i miscredenti si muovono in questo paese effimero meschino godimento il loro rifugio infine sarà l'inferno che in fausto giaciglio coloro invece che temono il loro signore avranno i giardini dove scorrono i ruscelli e vi rimarranno per sempre dono da parte di Allah ciò che è presso Allah è quanto di meglio per i caritatevoli tra le genti del libro ci sono alcuni che credono in Allah e in quello che è stato fatto scendere su di voi e in quello che è stato fatto scendere su di loro sono umili davanti ad Allah e non svendono a vel prezzo i segni suoi ecco quelli che avranno la mercede da parte del loro signore in verità Allah è rapido al conto o voi che credete perseverate incitatevi alla perseveranza lottate e temete Allah sicché possiate prosperare Sura Quarta Uomini temete il vostro signore che vi ha creati da un solo essere e da esso ha creato la sposa sua e da loro ha tratto molti uomini e donne e temete Allah in nome del quale rivolgete l'un l'altro le vostre richieste e rispettate i legami di sangue in vero Allah veglia 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 su di voi restituite agli orfani beni loro e non scambiate il buono con il cattivo né confondete i loro beni con i vostri questo è veramente un peccato grande e se temete di essere ingiusti nei confronti degli orfani sposate allora due o tre o quattro tra le donne che vi piacciono ma se temete di essere ingiusti allora sia una sola o le ancelle che le vostre destre possiedono ciò è più atto ad evitare di essere ingiusti e date alle vostre spose la loro dote se graziosamente esse ve ne cedono una parte godetevela pure e che vi sia propizia non date in mano agli incapaci i beni che Allah vi ha concesso per la sopravvivenza attingetevi per nutrirli e vestirli e rivolgete loro parole gentili mettete alla prova gli orfani finché raggiungano la pubertà e se si comportano rettamente restituite loro i loro beni non affrettatevi a consumarli e a sperperarli prima che abbiano raggiunto la maggiore età chi è ricco se ne astenga e chi è povero ne usi con moderazione e quando restituiti i loro beni chiamati testimoni ma Allah basta tenere il conto di ogni cosa agli uomini spetta una parte di quello che hanno lasciato genitori e parenti anche alle donne spetta una parte di quello che hanno lasciato genitori e parenti stretti piccola o grande che sia una parte determinata se altri parenti gli orfani e i poveri assistono alla divisione datene loro una parte e trattateli con dolcezza e coloro che temono di lasciare una posterità senza risorse temano Allah e parlino rettamente in verità coloro che consumano ingiustamente i beni degli orfani non fanno che alimentare il fuoco nel ventre loro e presto precipiteranno nella fiamma ecco quello che Allah vi ordina a proposito dei vostri figli al maschio la parte di due femmine se ci sono solo femmine e sono più di due a loro spettano i due terzi dell'eredità e se è una figlia sola ha diritto alla metà ai genitori del defunto tocca un sesto ciascuno se egli ha lasciato un figlio se non ci sono figli e i genitori sono gli unici eredi alla madre tocca un terzo se ci sono fratelli la madre avrà un sesto dopo l'esecuzione dei legati e il pagamento dei debiti voi non sapete se sono i vostri ascendenti o i vostri discendenti ad esservi di maggior beneficio questo è il decreto di Allah in verità Allah è saggio sapiente a voi spetta la metà di quello che lasciano le vostre spose se esse non hanno figli se li hanno vi spetta un quarto di quello che lasciano dopo aver dato seguito al testamento e pagato i debiti e a loro spetterà un quarto di quello che lasciate se non avete figli se invece ne avete avranno un ottavo di quello che lasciate dopo aver dato seguito al testamento e pagato i debiti se un uomo o una donna non hanno eredi né ascendenti né discendenti ma hanno un fratello o una sorella a ciascuno di loro toccherà un sesto mentre se sono più di due divideranno un terzo dopo aver dato seguito al testamento e pagato i debiti senza far torto a nessuno questo è il comando di Allah Allah è sapiente saggio questi sono i limiti di Allah chi obbedisce ad Allah e al suo messaggero sarà introdotto nei giardini dove scorrono i ruscelli dove rimarrà in eterno ecco la beatitudine immensa e chi disobbedisce ad Allah e al suo messaggero e trasgredisce le sue leggi sarà introdotto nel fuoco dove rimarrà in perpetuo e avrà castigo avvilente se le vostre donne avranno commesso azioni infami portate contro di loro quattro testimoni dei vostri e se essi testimonieranno confinate quelle donne in una casa finché non sopraggiunga la morte o Allah apra loro una via d'uscita e se sono due dei vostri a commettere infamità puniteli se poi si pentono e si ravvedono lasciateli in pace Allah è perdonatore misericordioso Allah accoglie il pentimento di coloro che fanno il male per ignoranza e che poco dopo si pentono ecco da chi Allah accetta il pentimento Allah è saggio sapiente ma non c'è perdono per coloro che fanno il male e che quando si presenta a loro la morte gridano adesso sono pentito e neanche per coloro che muoiono da miscredenti per costoro abbiamo preparato doloroso castigo o voi che credete non vi è lecito ereditare delle mogli contro la loro volontà non trattatele con durezza nell'intento di riprendervi parte di quello che avevate donato a meno che abbiano commesso una palese infamità comportatevi verso di loro convenientemente se provate avversione nei loro confronti può darsi che abbiate avversione per qualcosa in cui Allah ha riposto un grande bene se volete cambiare una sposa con un'altra non riprendetevi nulla anche se avete dato ad una un chintar d'oro il riprendere sarebbe un oltraggio e un peccato evidente e come lo riprendereste dopo che vi siete accostati l'uno all'altra e dopo che esse hanno tenuto da voi una stretta alleanza non sposate le donne che i vostri padri hanno sposato a parte quello che è stato è davvero un'infamità un abominio e un cattivo costume vi sono vietate le vostre madri figlie sorelle zie paterne e zie materne le figlie di vostro fratello e le figlie di vostra sorella le balie che vi hanno allattato le sorelle di latte le madri delle vostre spose le figliastre che sono sotto la vostra tutela nate da donne con le quali avete consumato il matrimonio se il matrimonio non fosse stato consumato non ci sarà peccato per voi le donne con le quali i figli nati dei vostri lombi hanno consumato il matrimonio e due sorelle contemporaneamente salvo quello che già avvenne che in verità Allah è perdonatore misericordioso e tra tutte le donne quelle maritate a meno che non siano vostre schiave questo è ciò che Allah vi prescrive a parte ciò vi è permesso cercare moglie utilizzando i vostri beni in modo onesto e senza abbandonarvi al libertinaggio così come godrete di esse verserete loro la dote che è dovuta non ci sarà alcun male nell'accordo che farete tra voi oltre questa prescrizione in vero in vero è sapiente e saggio e chi di voi non avesse i mezzi per sposare donne credenti libere scelga moglie tra le schiave nubili e credenti Allah conosce meglio la vostra fede voi provenite gli uni dagli altri sposatele con il consenso della gente loro e versate la dote in modo conveniente siano donne rispettabili e non libertine o amanti se dopo il matrimonio commettono un'infamità abbiano la metà della pena che spetterebbe alle donne libere tutto ciò è concesso a chi tema di peccare ma sarebbe meglio per voi avere pazienza Allah è perdonatore misericordioso Allah vuole illuminarvi mostrandovi il comportamento degli uomini che vissero prima di voi e accogliere il vostro pentimento Allah è sapiente e saggio Allah vuole accogliere il vostro pentimento mentre coloro che seguono le passioni vogliono costringervi su una china pericolosa Allah vuole alleviare i vostri obblighi perché l'uomo è stato creato debole o voi che credete non divoratevi vicendevolmente i vostri beni ma commerciate con mutuo consenso e non uccidetevi da voi stessi Allah è misericordioso verso di voi chi commette questi peccati iniquamente e senza ragione sarà gettato nel fuoco ciò è facile per Allah se eviterete i peccati più gravi che vi sono stati proibiti cancelleremo le altre colpe e vi faremo entrare con onore in paradiso non invidiate l'eccellenza che Allah ha dato a qualcuno di voi gli uomini avranno ciò che si saranno meritati e le donne avranno ciò che si saranno meritate chiedete ad Allah alla grazia sua Allah è in verità conosce ogni cosa a ciascuno abbiamo indicato degli eredi cui spetta parte di quello che lasciano i genitori e i parenti stretti date la loro parte a coloro quei quali avete stretto un patto Allah è testimone di ogni cosa gli uomini sono preposti alle donne a causa della preferenza che Allah concede agli uni rispetto alle altre e perché spendono per esse i loro beni le donne virtuose sono le devote che proteggono nel segreto quello che Allah ha preservato ammonite quelle di cui temete l'insubordinazione lasciatele sole nei loro letti battetele se poi vi obbediscono non fate più nulla contro di esse Allah è altissimo grande se temete la separazione di una coppia convocate un arbitro della famiglia di lui e uno della famiglia di lei se i coniugi vogliono riconciliarsi Allah ristabilirà l'intesa tra loro Allah è saggio e ben informato adorate Allah e non associate gli alcunché siate buoni con i genitori i parenti gli orfani i poveri i vicini i vostri parenti e coloro che vi sono estranei il compagno che vi sta accanto il viandante e chi è schiavo in vostro possesso in verità Allah non ama l'insolente il vana glorioso e neppure coloro che sono avari e invitano l'avarizia e celano quello che Allah ha dato loro della sua grazia abbiamo preparato un castigo doloroso per i miscredenti coloro che davanti alla gente spendono con ostentazione ma non credono in Allah e nell'ultimo giorno chi ha satana per compagno ha un compagno detestabile cosa avrebbero avuto da rimproverarsi se avessero creduto in Allah e nell'ultimo giorno e fossero stati generosi di quello che Allah aveva loro concesso Allah ben li conosce il vero Allah non commette ingiustizie nemmeno del peso di un solo atomo se si tratta di una buona azione egli la valuterà il doppio e darà ricompensa enorme da parte sua e che avverrà quando susciteremo un testimone in ogni comunità e ti chiameremo a testimone contro di loro in quel giorno i miscredenti coloro che hanno disobbedito al messaggero preferirebbero che la terra li ricoprisse completamente non potranno nascondere ad Allah nessun episodio o voi che credete non accostatevi all'orazione se siete ebri finché non siate in grado di capire quello che dite e neppure se siete in stato di impurità finché non abbiate fatto la lavanda a meno che non siate in viaggio se siete malati o in viaggio o se uscite da una latrina o avete avuto rapporto con le donne e non trovate acqua fate allora l'allustrazione pulverale con terra pulita con cui sfregherete il viso e le mani in verità Allah è indulgente perdonatore non hai visto quel che hanno fatto coloro ai quali fu data una parte della scrittura comprano la perdizione e cercano di farvi allontanare dalla retta via Allah conosce i vostri nemici egli è sufficiente come patrono e come soccorritore alcuni tra i giudei stravolgono il senso delle parole e dicono abbiamo inteso ma abbiamo disobbedito oppure ascolta senza che nessuno ti faccia ascoltare e raina contorcendo la lingua e ingiuriando la religione se invece dicessero abbiamo inteso e abbiamo obbedito e ascolta e un zurna sarebbe stato meglio per loro è più retto Allah li ha maledetti per la loro miscredenza credono molto debolmente o voi che avete ricevuto la scrittura credete in quello che abbiamo fatto scendere a conferma di ciò che già avevate prima che cancelliamo i volti e li rivoltiamo completamente e li malediciamo come abbiamo maledetto i violatori dal sabato la decisione di Allah è sempre eseguita in verità Allah non perdona che gli si associa alcun che ma all'infuori di ciò perdona chi vuole ma chi attribuisce consimile ad Allah commette un peccato immenso non hai visto coloro che si vantano di essere puri è Allah che purifica chi vuole lui e non subiranno neppure un torto grande quanto una pellicola di dattero guarda come inventano menzogne contro Allah non è questo un evidente peccato non hai visto coloro ai quali fu data una parte della scrittura prestar fede agli spiriti impuri e agli idoli e dire di coloro che sono miscredenti sono meglio guidati sulla via di Allah di coloro che hanno creduto ecco coloro che Allah ha maledetto a chi è maledetto da Allah non potrai trovare alleato dovrebbero avere una parte del potere loro che non donano agli altri neppure una fibra di dattero forse sono gelosi degli uomini a causa di ciò che Allah ha concesso per grazia sua abbiamo dato alla famiglia di Abramo il libro e la saggezza e abbiamo dato loro immenso regno qualcuno di loro ha creduto e qualcun altro si è allontanato l'inferno sarà per loro una fornace sufficiente presto getteremo nel fuoco coloro che smentiscono i nostri segni ogni volta che la loro pelle sarà consumata ne daremo loro un'altra sì che gustino il tormento in verità Allah è eccelso e saggio coloro che invece hanno creduto e operato il bene presto li faremo entrare nei giardini dove scorrono i ruscelli e in cui rimarranno immortali in perpetuo avranno spose purissime e le introdurremo nell'ombra che rinfresca Allah vi ordina di restituire i depositi ai loro proprietari e di giudicare con equità quando giudicate tra gli uomini Allah vi esorta al meglio Allah è colui che ascolta e osserva o voi che credete obbedite ad Allah e al messaggero e a coloro di voi che hanno l'autorità se siete discordi in qualcosa fate riferimento ad Allah e al messaggero se credete in Allah e nell'ultimo giorno è la cosa migliore e l'interpretazione più sicura non hai visto coloro che dicono di credere in quello che abbiamo fatto scendere su di te e in quello che abbiamo fatto scendere prima di te e poi ricorrono all'arbitrato degli idoli mentre è stato loro ordinato di rinnegarli ebbene satana vuole precipitarli nella perdizione e quando si dice loro venite verso ciò che Allah ha rivelato e verso il messaggero vedrai gli ipocriti allontanarsi e scostarsi da te cosa faranno quando li colpirà una disgrazia a causa di quello che avranno preparato le mani loro verranno da te giurando per Allah perseguivamo il bene e la concordia essi sono coloro di cui Allah bene conosce il cuore non badare a loro solo esortali e di loro qualcosa che tocchi le loro anime non abbiamo inviato un messaggero se non affinché sia obbedito per volontà di Allah se dopo aver mancato nei loro stessi confronti venissero da te e ti chiedessero il perdono di Allah e se il messaggero chiedesse perdono per loro troverebbero Allah pronto ad accogliere il pentimento misericordioso no per il tuo signore non saranno credenti finché non ti avranno eletto giudice delle loro discordie e finché non avranno accettato senza recriminare quello che avrai deciso sottomettendosi completamente se avessimo ordinato loro uccidetevi oppure abbandonate le vostre case solo un piccolo gruppo di loro l'avrebbe fatto sarebbe meglio che facessero quello a cui vengono esortati e ciò li rafforzerebbe inoltre daremo loro una ricompensa immensa e li guideremo sulla retta via coloro che obbediscono ad Allah e al suo messaggero saranno tra coloro che Allah ha colmato della sua grazia profeti uomini di verità martiri gente del bene che ottima compagnia questa è la grazia di Allah basta Allah ad essere onnisciente o voi che credete preparatevi e poi partite in missione a gruppi o in massa tra voi c'è qualcuno che esita e si attarda e che quando vi giunge un rovescio dirà certamente Allah mi ha fatto grazia di non trovarmi in loro compagnia e se vi giunge una grazia da parte di Allah dirà come se non ci fosse amicizia alcuna tra voi che peccato se fossi rimasto con loro avrei avuto un enorme guadagno combattano dunque sul sentiero di Allah coloro che barattano la vita terrena con l'altra a chi combatte per la causa di Allah sia ucciso vittorioso daremo presto ricompensa immensa perché mai non combattete per la causa di Allah e dei più deboli tra gli uomini le donne e i bambini che dicono signore facci uscire da questa città di gente uniqua concedici da parte tua un patrono concedici da parte tua un alleato coloro che credono combattono per la causa di Allah mentre i miscredenti combattono per la causa degli idoli combattete gli alleati di satana deboli sono le astuzie di satana non hai visto coloro ai quali fu detto abbassate le mani eseguite l'orazione e pagate la decima quando fu loro ordinato di combattere ecco che una parte di loro fu presa da un timore per gli uomini come timore di Allah o ancora maggiore e dissero o signor nostro perché ci hai ordinato la lotta se potessi rinviarci il termine di è infimo il godimento di questo mondo l'altra vita è migliore perché è timorato di Allah non subirete neanche un danno grande come una pellicola di dattero la morte vi coglierà ovunque sarete possa anche in torri fortificate se giunge loro un bene dicono viene da Allah se giunge un male dicono viene da te di tutto viene da Allah ma cos'hanno queste genti che non comprendono nemmeno un singolo evento ogni bene che ti giunge viene da Allah e ogni male viene da te stesso ti abbiamo mandato come messaggero agli uomini Allah è testimone sufficiente chi obbedisce al messaggero obbedisce ad Allah e quanto a coloro che volgono le spalle non ti abbiamo inviato come loro guardiano dicono siamo obbedienti poi quando ti lasciano una parte di loro medita di notte tutt'altre cose da quelle che tu hai detto ma Allah scrive quello che tramano nella notte non ti curare di loro e riponi la tua fiducia in Allah Allah è garante sufficiente non meditano sul Corano se provenisse da altri che da Allah vi avrebbero trovato molte contraddizioni se giunge loro una notizia motivo di sicurezza o di allarme la divulgano se la riferissero al messaggero a coloro che hanno l'autorità certamente la comprenderebbero coloro che hanno la capacità di farlo se non fosse stato per la grazia di Allah che su di voi e per la sua misericordia certamente avreste seguito Satana eccetto una piccola parte di voi combatti dunque per la causa di Allah sei responsabile solo di te stesso e incoraggia i credenti forse Allah fermerà la crimonia dei miscredenti Allah è più temibile nella sua crimonia e più temibile nel suo castigo chi intercede di buona intercessione ne avrà una parte e chi intercede di cattiva intercessione ne sarà responsabile Allah vigila su tutte le cose se vi si saluta rispondete con miglior saluto o comunque rispondete Allah vi chiederà conto di ogni cosa Allah non c'è Dio all'infuori di lui certamente vi adunerà nel giorno della resurrezione su cui non vi è dubbio alcuno e chi è più veritiero di Allah perché vi siete divisi in due fazioni a proposito degli ipocriti Allah li ha respinti per quello che si sono meritati volete forse guidare coloro che Allah ha allontanato a chi viene allontanato da Allah non potrai trovare una via vorrebbero che foste miscredenti come lo sono loro e allora sareste tutti uguali non sceglietevi amici tra loro finché non emigrano per la causa di Allah ma se vi volgono le spalle allora afferrateli e uccideteli ovunque li troviate non sceglietevi tra loro né amici né alleati eccetto coloro che si rifugiano presso gente con la quale avete stabilito un accordo o che vengono da voi con l'angoscia di dovervi combattere o combattere la loro gente se Allah avesse voluto avrebbe dato loro potere su di voi e vi avrebbero combattuti pertanto se rimangono neutrali non vi combattono e vi offrono la pace ebbene Allah non vi concede nulla contro di loro altri ne troverete che vogliono essere in buoni rapporti con voi e con la loro gente ogni volta che hanno occasione di sedizione vi si precipitano se non si mantengono neutrali se non vi offrono la pace e non abbassano le armi afferrateli e uccideteli ovunque li incontriate vi abbiamo dato su di loro evidente potere il credente non deve uccidere credente se non per errore chi involontariamente uccide un credente affranchi uno schiavo credente e versi alla famiglia della vittima il prezzo del sangue a meno che essi non vi rinuncino caritatevolmente se il morto seppur credente apparteneva a gente vostra nemica venga affrancato uno schiavo credente se apparteneva a gente con la quale avete stipulato un patto venga versato il prezzo del sangue alla sua famiglia e si affranchi uno schiavo credente e chi non ne ha i mezzi digiuni due mesi consecutivi per dimostrare il pentimento davanti ad Allah Allah è sapiente saggio chi uccide intenzionalmente un credente avrà il compenso dell'inferno dove rimarrà in perpetuo su di lui la collera e la maledizione di Allah e gli sarà preparato atroce castigo o voi che credete quando vi lanciate sul sentiero di Allah siate ben certi prima di dire a chi vi rivolge il saluto tu non sei credente al fine di procacciarvi i beni della vita terrena presso Allah c'è bottino più ricco già prima eravate così poi Allah vi ha beneficati state attenti che Allah è perfettamente informato di quello che fate non sono eguali credenti che rimangono nelle loro case eccetto coloro che sono malati e coloro che lottano con la loro vita e i loro beni per la causa di Allah a questi Allah ha dato eccellenza su coloro che rimangono nelle loro case e una ricompensa immensa gradi di eccellenza che provengono da lui perdono e misericordia poiché Allah è perdonatore misericordioso gli angeli quando faranno morire coloro che furono ingiusti nei loro stessi confronti diranno qual era la vostra condizione risponderanno siamo stati oppressi sulla terra allora gli angeli diranno la terra di Allah non era abbastanza vasta da permettervi di emigrare ecco coloro che avranno l'inferno per dimora qual tristo rifugio eccezione fatta per gli oppressi uomini donne e bambini sprovvisti di ogni mezzo che non hanno trovato via alcuna forse a questi Allah perdonerà Allah indulgente perdonatore chi emigra per la causa di Allah troverà sulla terra molti rifugi ampi e spaziosi che abbandona la sua casa come emigrante verso Allah il suo messaggero ed è colto dalla morte avrà presso Allah la ricompensa sua Allah è perdonatore misericordioso quando siete in viaggio non ci sarà colpa se abbrevierete l'orazione se temete che i miscredenti vi attacchino i miscredenti sono per voi un nemico manifesto quando sei tra loro e annunci l'orazione un gruppo stia ritto dietro di te e tenga le armi dopo la prosternazione arretri e venga avanti l'altro gruppo che non ancora pregato e preghi con te tenendo le armi ai miscredenti piacerebbe vedere che abbandonate le armi e le salmerie per piombarvi addosso in un sol colpo non ci sarà colpa se a causa della pioggia o della malattia deporrete le armi ma state in guardia in verità Allah ha preparato un castigo umiliante per i miscredenti poi dopo l'orazione ricordatevi di Allah in piedi seduti o coricati su un fianco quando poi siete al sicuro eseguite l'orazione normalmente in verità per il credente l'orazione è un obbligo in tempi ben determinati non scoraggiatevi nell'inseguimento di questa gente se voi soffrite anche loro soffrono come voi ma voi sperate da Allah ciò che essi non sperano Allah è saggio sapiente in verità abbiamo fatto scendere su di te il libro con la verità affinché giudichi tra gli uomini secondo quello che Allah ti ha mostrato non difendere la causa dei traditori implora il perdono di Allah Allah è perdonatore misericordioso non discutere in nome di coloro che tradiscono loro stessi in verità Allah non ama il traditore inveterato il peccatore cercano di nascondersi agli uomini ma non si nascondono ad Allah egli al loro fianco quando di notte pronunciano parole che lui non gradisce Allah abbraccia nella sua scienza tutto quello che fanno avete disputato a loro favore nella vita presente ma chi contenderà con Allah per loro nel giorno della risurrezione chi diverrà loro garante chi agisce male o è ingiusto verso se stesso e poi implora il perdono di Allah troverà Allah perdonatore misericordioso chi commette un peccato danneggia se stesso Allah è sapiente saggio chi commette una mancanza un peccato e poi accusa un innocente si macchia di calunnia e di un peccato evidente se non fosse stato per la grazia di Allah su di te e la sua misericordia una parte di loro avrebbe complottato per indurti in perdizione ma non perdono che se stessi e non possono nuocerti nessuna cosa Allah ha fatto scendere su di te il libro e la saggezza e ti ha insegnato quello che non sapevi la grazia di Allah è immensa su di te non c'è nulla di buono in molti dei loro conciliaboli eccezione fatta per chi ordina un'elemosina o una buona azione o la riconciliazione tra gli uomini a chi fa questo per compiacimento di Allah daremo ricompensa immensa chi si separa dal messaggero dopo che gli si è manifestata la guida e segue un sentiero diverso da quello dei credenti quello lo allontaneremo come si è allontanato e lo getteremo nell'inferno qual triste destino no Allah non perdona che gli si associa alcunché oltre a ciò perdona chi vuole ma chi attribuisce consimili ad Allah si perde lontano nella perdizione invocano femmine all'infuori di lui non invocano altro altro che Satana e il ribelle Allah maledice colui che disse certamente mi prenderò una parte stabilita dei tuoi servi li condurrò la perdizione li illuderò con vane speranze darò loro ordini ed essi taglieranno gli orecchi degli armenti io darò gli ordini e loro snatureranno la creazione di Allah chi prende Satana per patrono al posto di Allah si perde irrimediabilmente fa loro promesse e suggerisce false speranze Satana promette solo per ingannare ecco coloro che avranno l'inferno per rifugio non avranno modo di sfuggirvi coloro invece che hanno creduto e operato il bene li faremo entrare nei giardini dove scorrono i ruscelli in cui rimarranno in perpetuo la promessa di Allah è verità chi mai è più veritiero di Allah nel parlare questo non dipende dai vostri desideri e neppure da quelli della gente della scrittura chi opera il male ne pagherà il fio e non troverà all'infuori di Allah né patrono né alleato quanto a coloro che uomini o donne operano il bene e sono credenti ecco coloro che entreranno nel giardino e non subiranno alcun torto o sa anche del peso di una fibra di dattero chi potrebbe scegliere religione migliore di colui che sottomette ad Allah il suo volto opera il bene e segue sinceramente la religione di Abramo il sincero Allah prese Abramo per amico appartiene ad Allah tutto quello che c'è nei cieli e tutto quello che c'è sulla terra Allah abbraccia nella sua scienza tutte le cose ti interpelleranno a proposito delle donne di Allah vi risponde a riguardo e ciò è recitato nel libro relativamente alle orfane alle quali non date quello che è prescritto loro e a quelle che desiderate sposare ai ragazzi oppressi e agli orfani dei quali dovete aver cura con giustizia Allah conosce tutto il bene che operate se una donna teme la disaffezione del marito o la sua avversione non ci sarà colpa alcuna se si accorderanno tra loro l'accordo è la soluzione migliore gli animi tendono all'avidità ma se agite bene e temete Allah sappiate che Allah è bene informato di quello che fate non potrete mai essere equi con le vostre mogli anche se lo desiderate non seguite però la vostra inclinazione fino a lasciarne una come in sospeso se poi vi riconcilierete e temerete Allah ebbene Allah è perdonatore misericordioso in caso di separazione Allah nella sua generosità darà entrambi della sua abbondanza Allah è immenso e saggio appartiene ad Allah tutto quello che è nei cieli e sulla terra temete Allah ecco quello che abbiamo ordinato a coloro che ricevettero la scrittura prima di voi e se sarete miscredenti ebbene Allah possiede tutto quello che c'è nei cieli e sulla terra Allah basta se stesso e il degno di lode appartiene ad Allah tutto quello che è nei cieli e sulla terra Allah è il migliore dei garanti se volesse vi annienterebbe uomini e ne susciterebbe altri Allah ha tutto il potere di farlo chi desidera compenso terreno ebbene il compenso terreno e l'altro sono presso Allah Allah è colui che ascolta e osserva o voi che credete attenetevi alla giustizia e rendete testimonianza innanzi ad Allah fosse anche contro voi stessi i vostri genitori e i vostri parenti si tratti di ricchi o di poveri Allah è più vicino di voi agli uni e agli altri non abbandonatevi alle passioni sì che possiate essere giusti se vi destreggerete o vi disinteresserete è bene Allah è ben informato di quello che fate o voi che credete credete in Allah e nel suo messaggero al libro che ha via via fatto scendere sul suo messaggero e alle scritture che ha fatto scendere in precedenza chi non crede in Allah nei suoi angeli nei suoi libri e nei suoi messaggeri al giorno ultimo si perde lontano nella perdizione coloro che credettero e poi negarono ricredettero e poi rinnegarono non fecero che accrescere la loro miscredenza Allah non li perdonerà e non li guiderà sulla via annuncia agli ipocriti un doloroso castigo loro che si scelgono alleati tra i miscredenti invece che tra i credenti è la potenza che cercano da loro in verità tutta la potenza appartiene ad Allah certamente nel libro è già stato rivelato quando sentite che vengono smentiti o sbeffeggiati i segni di Allah non sedetevi con coloro che fanno ciò fino a che non scelgano un altro argomento altrimenti sareste come loro in verità Allah radunerà tutti gli ipocriti e i miscredenti nell'inferno sono coloro che stanno a spiarvi e se all'avida vittoria dicono non eravamo con voi e se invece i miscredenti hanno successo dicono loro non avevamo la possibilità di dominarvi non vi abbiamo difeso contro i credenti ebbene Allah giudicherà tra di voi nel giorno della resurrezione Allah non concederà ai miscredenti alcun mezzo di vittoria sui credenti sì gli ipocriti credono di ingannare Allah ma è lui che li inganna quando si levano per l'orazione lo fanno con pigrizia e ostentazione nei confronti della gente a malapena si ricordano di Allah si barcamenano tra gli uni e gli altri senza essere né di questi né di quelli per chi è sviato da Allah non troverai via alcuna o voi che credete non prendetevi per alleati miscredenti invece che credenti vorreste dare ad Allah un valido argomento con voi stessi in verità gli ipocriti saranno nel fuoco più profondo e non avranno nessuno che li soccorra coloro che invece si pentono si correggono si aggrappano ad Allah e purificano il loro culto nei suoi confronti questi saranno insieme coi credenti e Allah darà loro ricompensa immensa perché mai Allah dovrebbe punirvi se siete riconoscenti e credenti Allah è riconoscente e sapiente Allah non ama che venga conclamato il male eccetto da parte di colui che lo ha subito Allah tutto ascolta e conosce che facciate il bene pubblicamente o segretamente o perdoniate un male Allah indulgente onnipotente in verità coloro che negano Allah e i suoi messaggeri e vogliono distinguere tra Allah e i suoi messaggeri dicono crediamo in uno e l'altro neghiamo e vogliono seguire una via intermedia sono essi i veri miscredenti e per i miscredenti abbiamo preparato un castigo umiliante quanto invece a coloro che credono in Allah e nei suoi messaggeri e non fanno differenza alcuna tra loro ecco presto essi avranno la loro mercede Allah è perdonatore misericordioso la gente la gente della scrittura pretende che tu faccia scendere un libro dal cielo a Mosè chiesero qualcosa ancora più enorme quando gli dissero facci vedere Allah apertamente e la folgore li colpì per la loro iniquità poi si presero il vitello dopo che ebbero le prove ciò nonostante li perdonammo ed emmo a Mosè autorità incontestabile in segno dell'alleanza elevammo il monte sopra di loro e dicemmo entrate dalla porta prosternandovi e dicemmo non trasgredite il sabato e accettammo il loro impegno solenne in seguito li abbiamo maledetti perché ruppero il patto negarono i segni di Allah uccisero ingiustamente i profeti e dissero i nostri cuori sono incirconcisi è Allah invece che ha sigillato i loro cuori per la loro miscredenza e a parte pochi essi non credono li abbiamo maledetti per via della loro miscredenza e perché dissero contro Maria calunnia immensa e dissero abbiamo ucciso il messia Gesù figlio di Maria il messaggero di Allah invece non l'hanno né ucciso né crocifisso ma così parve loro coloro che sono in discordia a questo proposito restano nel dubbio non hanno altra scienza e non seguono altro che la congettura per certo non lo hanno ucciso ma Allah lo ha elevato fino a sé Allah è eccelso saggio non vi è alcuno della gente della scrittura che non crederà in lui prima di morire nel giorno della resurrezione testimonierà contro di loro è per l'iniquità dei giudei che abbiamo reso loro illecite cose eccellenti che erano lecite perché fanno molto per allontanare le genti dalla via di Allah perché praticano l'usura cosa che era loro vietata e divorano i beni altrui a quelli di loro che sono miscredenti abbiamo preparato un castigo atroce ma quelli di loro che sono radicati nella scienza e i credenti credono in quello che è stato fatto scendere su di te e in quello che è stato fatto scendere prima di te eseguono l'orazione pagano la decima e credono in Allah nell'ultimo giorno daremo loro mercede immensa in verità ti abbiamo dato la rivelazione come la demmo a Noè e i profeti dopo di lui e abbiamo dato la rivelazione ad Abramo Ismaele Isacco Giacobbe e alle tribù a Gesù Giobbe Giona Aronne Salomone e a Davide Demol Salterio ci sono messaggeri di cui ti abbiamo narrato e altri di cui non abbiamo fatto menzione e Allah parlò direttamente a Mosè inviamo messaggeri come enunzi a monitori affinché dopo di loro gli uomini non avessero più argomenti davanti ad Allah è eccelso e saggio Allah testimonia che ciò che ha fatto scendere su di te è stato fatto scendere secondo scienza e anche gli angeli lo testimoniano e Allah è sufficiente testimone si coloro che non credono emettono ostacoli sulla via di Allah si perdono lontano nella perdizione si coloro che sono miscredenti e sono ingiusti Allah non li perdonerà e non mostrerà loro altra via eccetto la via dell'inferno dove rimarranno in perpetuo e ciò è facile ad Allah o uomini il messaggero vi ha recato la verità proveniente dal vostro signore credete dunque questa è la cosa migliore per voi e se non credete sappiate che ad Allah appartiene tutto ciò che è nei cieli e sulla terra Allah è sapiente saggio o gente della scrittura non eccedete nella vostra religione e non dite su Allah altro che la verità il messia Gesù figlio di Maria non è altro che un messaggero di Allah una sua parola che gli pose in Maria uno spirito da lui proveniente credete dunque in Allah e nei suoi messaggeri non dite tre smettete sarà meglio per voi in vero Allah è un dio unico avrebbe un figlio gloria a lui a lui appartiene tutto quello che è nei cieli e tutto quello che è sulla terra Allah è sufficiente come garante il messia e gli angeli più ravvicinati non disdegneranno mai di essere gli schiavi di Allah e coloro che disdegnano di adorarlo e si gonfiano d'orgoglio ben presto saranno adunati davanti a lui coloro che invece hanno creduto e compiuto il bene avranno per intero la loro ricompensa e aggiungerà Allah dalla sua generosità coloro che disdegnano e sono gonfi d'orgoglio saranno castigati con doloroso tormento non troveranno oltre d'Allà né patrono né alleato uomini vi è giunto una prova da parte del vostro signore e abbiamo fatto scendere su di voi una luce chiarissima coloro che credono in Allah e a lui si aggrappano li farà entrare nella sua misericordia nella sua grazia e li guiderà sulla retta via ti chiederanno un parere di a proposito del defunto che non lascia eredi né ascendenti né discendenti Allah vi dice se qualcuno muore senza lasciare figli ma una sorella ad essa toccherà la metà dell'eredità mentre egli erediterebbe da lei tutto quanto se ella non avesse figli se ci sono due sorelle avranno i due terzi di quello che lascia se ci sono dei fratelli e delle sorelle al maschio la parte di due femmine Allah vi illumina affinché non erriate Allah è l'onnisciente